Le emissioni globali di metano dal settore energetico sono circa il 70% in più rispetto ai dati ufficiali forniti dai governi nazionali e quanto sostiene l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Secondo il rapporto Global Methan Tracker, c'è bisogno urgente di maggiori sforzi di monitoraggio, trasparenza e di un'azione politica più forte ed immediata per ridurre le emissioni del potente gas serra. Per l'agenzia, se tutti i paesi produttori emettessero quanto la Norvegia, le emissioni globali di metano dalle operazioni di petrolio e gas diminuirebbero di oltre il 90%.